La storia dell'arte contemporanea racconta un momento felice. Agli amici dell'arte, la mostra personale di Anna Maria Arcelli. Un'artista che si presenta scrivendo, quando dipingo, mi sento appagata, mi spingono il cuore e l'anima. L'assemblea l'accoglie con un lungo applauso, il professor Luigi Galli ne traccia il profilo. Fin da piccola ha frequentato il Gazzola, i grandi maestri Piacentini, Cassinari, Luciana Donà, Scrocchi, ha studiato movimenti, cambiamenti dell'arte, della storia dell'arte, senza mai cadere nelle trappole del fare come. Poi una lunga lezione, molto attesa, ascoltata con attenzione, dinnanzi ai suoi quadri non si ha la percezione di vedere una scena quotidiana, ma la proiezione delle disposizioni dell'anima. Ci ha guidati alla visita della mostra, prima del suo contributo agli ospiti. Lei ha scritto «Produce le bellezze della natura, come le sente, filtrate dalla mente». In questa mostra abbiamo portato una scelta di quadri in cui lei proprio filtra le sue emozioni, le sue sensazioni, quello che vede nel mondo, attraverso la sua anima e le sue reazioni. Nessun dubbio, Anna Maria Arcelli è dotata di capacità che esprime con un suo linguaggio diverso, libero, senza subordinazioni, dove la carica poetica si manifesta e si mette a parlare di realtà. Nell'inerzia di troppe cose ovvie, Anna Maria Arcelli è uscita fuori da troppe ovvie consuetudini. Benvenuta ad Artono, alla cultura piacentina.